L'inaspettato è accaduto a Milano, benvenuti, ma prima di raccontarvi cosa è successo, dimostrate di essere tifosi rossoneri e cliccate sul pulsante EMI PIACE. La Juventus ha avuto la meglio sul Frosinone domenica all'Allianz Stadium, ma la prestazione di Marco Brescianini ha catturato l'attenzione. Calciomercato.com ricorda che è stato lui a segnare il gol del 2-1 per gli ospiti e sarà molto, probabilmente uno dei nomi che rimarranno in auge in vista dell'estate, perché diversi club hanno già puntato su di lui. Il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato di Brescianini in un'intervista a Tutto Sport e ha spiegato che crede che sia destinato ad arrivare in alto. Brescianini per me è un giocatore molto forte e potrebbe essere un giocatore della Juventus, del Milan, dell'Inter, del Napoli, perché a tutti i requisiti ha esordito. È un centrocampista completo, classe 2000, che viene da un settore giovanile importante come quello del Milan e che sta facendo cose meravigliose a Frosinone. Può farlo anche in un top club. Il centrocampista è uno dei pezzi più pregiati della Rosa già dopo l'ingaggio dal Milan la scorsa estate e vale già oltre 10 milioni di euro. Ma il valore potrebbe salire ulteriormente se garantirà questo livello di prestazioni fino al termine della stagione. Il prezzo finale sarà determinato dal mercato e dalle offerte che arriveranno. Ma c'è un altro aspetto da non dimenticare. Il Milan riceverà il 50% del valore di un'eventuale cessione, come da clausola concordata al momento della partenza. La percentuale consentirebbe anche al Milan di ingaggiarlo nuovamente per una cifra nettamente inferiore a quella di altri club, ma il ritorno di Brescianini non è al momento un'idea concreta per i rossoneri. Tuttavia, Juventus e Atalanta sono interessate e la lista delle pretendenti potrebbe allungarsi nelle prossime settimane.